Il Canicati calcio stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia di promozione. I ragazzi di Giovanni Falsone vincono a Ragusa grazie a un super gol nel finale del neo entrato Tanio Falsone. Entrato all'ottantasesimo al posto di Settecase, il figlio dell'allenatore del Canicati trova un gol bellissimo con un destro al volo sul lancio dalle retrovie di Martino. Chi si aspettava un arrembaggio da parte dei ragusani è rimasto deluso, infatti la partita è stata parecchio equilibrata, anzi paradossalmente è stato il Canicati ad avere le occasioni migliori con Iannello e Pirrotta. Qualche buona occasione anche per i ragusa, soprattutto su punizione, con Arena che è impegnato severamente in due occasioni i funari, ma comunque il Canicati, forte del risultato dell'annata, non ha mai rischiato. Quindi nel finale il gol di Falsone per una vittoria prestigiosa che sarà utile per le statistiche. Ma quello che contava e che conta di più è che il Canicati, primo nel girone A, accede alla semifinale di Coppa Italia e continua a sognare e inseguire la doppietta campionato Coppa. Adesso la Lega dovrà stabilire la data del sorteggio e quella delle gare che saranno a doppia sfida. Le squadre che sono rimaste nella competizione sono Cus Palermo, Città di Messina, Real Paternò e Canicati Calcio.